L'alternanza scuola-lavoro è una risorsa da costruire insieme, mondo della scuola e delle imprese, anche in un'ottica territoriale. Portare una nuova visione del rapporto tra scuola e lavoro, in cui il lavoro sia una parte del percorso di istruzione. Questo è un paradigma culturale nuovo, che però porterà un'innovazione nelle teste non solo dei nostri giovani, ma anche delle imprese, dei datori di lavoro e degli insegnanti. L'alternanza scuola-lavoro significa soprattutto riconnettere il mondo dell'istruzione con il sistema delle imprese. È un'opportunità straordinaria, in specie in una fase in cui il progresso tecnologico e l'innovazione sono le determinanti per lo sviluppo economico. In questo contesto, il tema degli apprendimenti che i giovani possono acquisire in azienda diventa per loro un capitale fondamentale, non soltanto per le prospettive lavorative, ma per l'intera società, ricostituendo quel tratto essenziale di competenze, capacità e valori che altrimenti rischia di perdersi.